Easy, Easy, EasyZip Come convertire MTS in MP4? Vai su EasyZip.com, quindi clicca su Convert, Video e vai a Convert MTS in MP4. Clicca su Seleziona file MTS da convertire per aprire il selettore file o trascina e rilascia il file MTS direttamente su EasyZip. Clicca su Converti in MP4. Inizierà il processo di conversione che richiederà un po' di tempo per essere completato. Clicca su Anteprima per vedere il file convertito sul browser. Clicca su Salva file MP4 per salvare il file MP4 convertito nella cartella di destinazione selezionata. È così facile. Spero che aiuti. Clicca sul logo e iscriviti. Significherebbe molto per noi. Easy, Easy, EasyZip